Salve a tutti, qui Antonio Cianci, il Racatafilm per voi. In collaborazione con molti altri youtuber che hanno visionato con me il film in anteprima, abbiamo deciso di rilasciare in contemporanea sui nostri canali la recensione di un film veramente particolare, da promuovere con pochissime riserve. Ma prima, passiamo alla sigla. Stavamo dicendo sui canali di Tosian, Paolo Innocenti, Henry Cinema 98, Kratos 25 e Gianluca De Angelis e i Fims, potrete in giornata trovarvi in primo piano un titolo che non può passare inosservato. Lascerò il link ai video in descrizione, intanto voglio dedicarmi anche io al film sul mio palinsesto. Posso finalmente parlarvi del talento del calabrone, disponibile da mercoledì 18 novembre su Amazon Prime Video, con scritto e diretto da Giacomo Cimini e con protagonisti Lorenzo Richelmi, Anna Foglietta e un Sergio Castellitto inedito che interpreta il calabrone, un nuovo antagonista in circolazione. Impostazione ben architettata, anche a livello di incipit, si parte con un dinamitardo pronto a seminare il terrore fra le strade di Milano, il calabrone appunto. Capace di mimetizzarsi con l'ambiente, di agire indisturbato, il villain ha bisogno di mettersi in contatto con DJ Steph, lo speaker più richiesto in prima serata su Radio 105, con il suo programma Beat Time. Beat Time Milano, Beat Time Italia, gli ascoltatori sono pronti, pronti ad assistere al crollo psicologico di un conduttore, costretto a mantenere viva la telefonata con il calabrone. Premesse vincenti per un thriller, dalla durata di un'ora e mezza, ottimamente sostenuto da una regia indagatrice, in cerca di dettagli, di indizi da scovare per alimentare la nostra più vivida curiosità. Cimini sfrutta al meglio due ambientazioni in primis, l'abitacolo del calabrone, trasformato in un quartier generale, un campo da gioco spoglio, in contrasto con la sala di registrazione di Steph, in uno studio potenziato da una splendida fotografia al neon. Abbiamo due personalità sicure di sé, in grado di intrattenere sia gli ascoltatori, che gli spettatori che si lasciano trascinare in questa spietata lotta di posizione. Bastano veramente pochi attori e una grande voglia di scombinare i ritmi e gli schemi narrativi, per un risultato che può stupire e ha più riprese. Trattasi di un vero e proprio thriller italiano, di stampo italiano, incapsulato in una Milano avvolta nella notte. Il talento del calabrone si affida ad un cast che confonde le nostre idee e gioca con le aspettative riposte, coltivate, per testare le capacità di giudizio e il fiuto per le indagini elaborate. Un film che è tutt'altro che stanco e passivo, anzi, è un'esperienza quasi interattiva nella quale bisogna visualizzare tasselli sparsi intelligentemente lungo la trama, per sviluppare nella nostra testa un hitter che ci porta a delle rivelazioni. Ma queste rivelazioni sono per lo più inaspettate e difficili da prevedere, con interessanti cambi netti di registro, visto che si può passare da una tensione sostenuta a degli inserti drammatici, senza soluzioni di continuità. Si fa enorme fatica a procedere oltre con la recensione, statene pur certi che il talento del calabrone vuole presentarsi come una matrioska, una matrioska vivente di soluzioni accattivanti che fungono da diversivo per settare nuovi standard nel cosiddetto cinema di genere. Si riprendono le orme di Donato Carrisi, il celebre romanziere che ha voluto proporci la ragazza nella nebbia e l'uomo del labirinto al cinema per rinnovarsi con il genere thriller. Qui però ci confrontiamo con una storia del tutto originale. Dal soggetto di Lorenzo Collalti, rielaborata poi in sede di sceneggiatura da Cimini, veniamo a contatto con una giungla al neon intrappolata in una Milano tenebrosa, custode di segreti inconfessabili, che hanno bisogno di essere rivelati a piccole dosi nel corso di una serata. La pressione esercitata da location volutamente limitate con gli spazi, ecco, la pressione costringe gli attori a modellare dei background molto riusciti, interessanti da trattare, con un arco specifico in attesa di essere scoperto. Abbiamo singole pedine sparse che devono ritrovarsi, protagonisti in contrasto fra loro e controllati a distanza da un Cimini misurato, apparentemente placido, che cerca di nascondere i numerosi colpi di scena sotto banco, da piazzare strategicamente per migliorare ulteriormente la qualità complessiva del film. Il talento proviene prima dalla sede di regia, poi viene trasferito in un calabrone spietato, un villain interpretato da Castellitto enorme, enorme per carisma, presenza scenica e moderazione nella costruzione di battute mai banali. Si farà certamente ricordare, e credetemi se vi dico che rappresenta il pregio più impattante del film. Poi seguono a ruota Richelmi e Foglietta, con un copione da studiare, riprendere con decisione, da elaborare con una certa ambiguità di fondo, per portarlo poi in scena, con caratteri forti che inevitabilmente si scontrano con un calabrone che è padrone delle riprese, posato, pronto a tutto per stuzzicare i nervi dei suoi giocatori. E non mi voglio soffermare troppo sui colpi di scena, che sono fenomenali, e hanno spiazzato chiunque, chiunque, soprattutto i youtuber che hanno voluto collaborare con me, per sostenere e promuovere il film di Cimini. Date una chance al titolo Amazon Prime Video, un'esclusiva tutta da scoprire, made in Italy, che saprà come intrattenervi a dovere e sorprendervi con tocchi di classe non indifferenti. Qui Antonio Cianci, il raccata film per voi con la presentazione e la recensione del talento del calabrone ha finito, fatemi sapere la vostra poi qui sotto nei commenti, vi aspetto, andate a rimediarvelo su Amazon, intanto vi mando un abbraccio, non dimenticatevi il pollicione in alto per sicurezza, e un saluto a tutti, carissimi seguaci del raccata film, ciao, alla prossima!